Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Scoperta dalla Guardia di Finanza una cooperativa edile fittizia Tre imprenditori condannati per frode da 20 milioni di euro Incidente stradale a centina rola di Fano, un'auto si schianta contro il muro di una casa Studentesse modello anche nella vita, trovano un pacco pieno di soldi e lo consegnano alla polizia Famiglie senza acqua per lavori alle tubature ed è la quindicesima volta in un anno Capriolo in città finisce sotto una macchina, danni alle vetture mentre l'animale è stato soppresso Prosegue il venerdì del buon umore, questa sera dopo il telegiornale su Fano TV Una divertentissima commedia in dialetto fanese firmata dal Guitto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV Tre imprenditori sono finiti nei guai per aver frodato il fisco Avevano organizzato una finta cooperativa edile Un meccanismo di frode che ha permesso ad una finta cooperativa edile di usufruire di benefici fiscali è stato portato alla luce dalle fiamme gialle del comando provinciale di Pesaro in un'operazione chiamata Carpentarius svolta negli ultimi tre anni con il coordinamento della Procura della Repubblica La cooperativa fittizia ha agito sul mercato come una vera e propria impresa offrendo prezzi concorrenziali evadendo al fisco quasi 20 milioni di euro Le indagini hanno così portato alla denuncia dell'amministratore fanese della cooperativa La condanna in primo grado per frode fiscali di tre imprenditori e la confisca per equivalente di una lussuosa villa, un'autovettura, conti correnti bancari e quote societarie Un segnale di forte efficacia contro l'illegalità economica in difesa degli imprenditori che agiscono correttamente a favore del nostro territorio Un incendio, c'è stato un incendio oggi pomeriggio intorno alle 15.30 che ha coinvolto la parte esterna e l'appezzamento di terreno e alcune sterpaglie che costeggiano la strada in via Fanella, località Centinarola di Fano non distante dal Cavalcavia Ancora ignote le cause, sul posto gli uomini mezzi del Vigile del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri La strada per un po' è stata chiusa al traffico È morto a 46 anni Alberto Mario Anconetani conosciuto da tutti e stimato professionista, uno dei più abili tatuatori aveva inciso e ideato la tartaruga di Valentino Rossi ha tatuato anche Filippo Magnini, Alfonso Ford, Federica Pellegrini Alberto aveva aperto il negozio in via Curiella a Pesaro i funerali si svolgeranno lunedì alle 15.30 nella parrocchia di Villa Fastigi il rosario invece domenica alle 18, Alberto lascia la moglie e due figli Torniamo a Centinarola di Fano dove c'è stato un incidente un'auto è finita contro il cancello di una casa Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio in via Brigata Messina a Centinarola di Fano una Ford Fiesta condotta da un 68enne fanese che procedeva in direzione nord per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ed invaso la corsia opposta dove in quell'istante proveniva in direzione sud un Alfa Romeo guidata da un 48enne di Fano che per evitare l'urto con freddezza e prontezza di riflessi ha sterzato ed evitato così il peggio ma la Fiesta nella sua corsa ha centrato il muretto e la recinzione in ferro di un'abitazione danneggiando anche i contatori di gas e d'acqua I sanitari del 118 giunti sul posto, valutate le condizioni dell'anziano lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pesaro nessuna conseguenza invece per l'occupante dell'Alfa Romeo Sul posto, oltre alla pattuglia della polizia locale anche una squadra dei vigili del fuoco ed una dell'ASET per riallacciare i contatori danneggiati Una voragine di oltre un metro e mezzo si è aperta nel centro della carreggiata in via Fanella a Fano, poco prima del ponte dell'autostrada, in una zona molto stretta è la seconda volta che accade in sole 24 ore già ieri infatti gli addetti del Comune avevano chiuso il buco e riaperto la strada ma nel poveriggio di oggi la voragine si è nuovamente riaperta e ha costretto la polizia locale a chiudere la via per consentire la riparazione Un camion che viaggia a zigzag in autostrada è l'incubo di ogni automobilista e qualche volta purtroppo succede, capita di vederne qualcuno così come è successo nelle ultime ore in A14 Un tasso alcolemico di gran lunga superiore alla media consentita durante la guida è stato riscontrato in seguito ad un controllo di un trentenne di origine rumene alla guida di un tir in A14 nell'ambito provinciale pesarese Numerose le segnalazioni di automobilisti che si sono imbattuti in quest'auto articolato che procedendo ad alta velocità proseguiva in uno slalom tra le corsie a fari spenti Intimato a fermarsi subito dopo il casello di Fano l'uomo ha ignorato l'alta della polizia che solo qualche chilometro dopo è riuscita a bloccare il mezzo dal quale è sceso l'autista che ha da subito manifestato serie difficoltà a stare in piedi in un evidente stato di ubriachezza 2.70 grammi per litro contro lo 0,5 concesso dalla legge è questo il tasso alcolemico riscontrato all'autista che è stato condotto all'ospedale di Senigallia è indagato con immediato ritiro e revoca definitiva della patente di guida e una multa fino a 9.000 euro Analoga sorte ma con sanzioni meno gravi qualche giorno fa per un giovane di terre roveresche che poco prima dell'alba è stato fermato per eccesso di velocità in pieno centro storico a Fano Sottoposto a controllo è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2.50 grammi per litro ben 5 volte la soglia massima consentita Trovano una busta con dentro un sacco di soldi e tre ragazzine, tre studentesse che cosa decidono di fare? Di portarla alla polizia Maria Chiara Baioni, Arianna Pisicoli e Luisa Tommassoni classe seconda A tre compagnie di scuola amiche fin dall'elementari ora studentesse del liceo linguistico di Fano ragazze come tante che vivono tra scuola, casa e passioni e che il destino ha voluto fossero messe davanti ad una casualità che ha messo la prova il loro senso morale e civico le tre ragazze ieri pomeriggio poco dopo alle 14.30 mentre si trovavano in Viale Unità d'Italia per una passeggiata all'altezza della farmacia si sono imbattute in un sacchetto di plastica che quasi le faceva inciampare e che ha tirato la loro attenzione dentro una cospicua somma di denaro tanti soldi, oltre 3.000 euro e così dopo alcuni momenti di smarrimento e dopo una breve consultazione la decisione unanime chiamiamo la polizia e consegniamo i soldi ci siamo incontrate e dopo abbiamo visto mentre camminavamo nel Viale Italia e abbiamo visto questo sacchetto e niente è stato un attimo sorprendente trovare tutti questi soldi non è proprio di tutti i giorni esatto però vi siete subito chiesti di chi erano come mai erano lì vi siete fatte qualche domanda abbiamo iniziato a pensare la storia di un signore che andava a comprare qualcosa che era tornato dalla banca magari gli serviva per fare qualcosa di importante però siamo chiesti di un sacchetto di plastica un attimo però non siamo posti più di tante domande alla fine vi è venuto subito di chiamare la polizia vi siete messe subito d'accordo? sì abbiamo riflettuto ci siamo messi nei panni della persona che li aveva persi quindi abbiamo deciso di chiamare la polizia ora dopo le lodi del corpo di polizia e l'orgoglio dei loro genitori per il gesto dall'alto significato morale e sociale in una società sempre più imbruttita dalle difficoltà e dalla crisi di fronte a questo esempio morale sarebbe bello che anche l'istituzione pubblica per eccellenza la scuola sia partecipe con loro di questo esempio di moralità utile a tutti quanti davvero brave allora andiamo avanti con il giornale anche questa mattina molte famiglie che abitano nella zona della Paleotta a Fano sono rimaste senza acqua perché fuori in strada c'erano dei lavori alle tubature c'era una rottura beh insomma niente di strano se non che è la quindicesima volta che accade in un anno ben 15 volte in poco più di un anno è spesso nello stesso punto sono le rotture ed i conseguenti interventi delle squadre dell'ASET per ripristinare il guasto ma la conseguenza è che per intere mattinate come quella odierna gli abitanti rimangono senza acqua e con una marea di disagi oltre che a garage allagati e toppe che non tengono e che si sfaldano spesso e volentieri l'acqua che esce dai rubinetti dopo l'intervento è scura ci dicono e come mostrano anche le immagini che ci danno segno dicono loro che lo spurgo della condotta non è stato fatto la speranza è che questa situazione presto venga sanata allora siete molti qui oggi pomeriggio siete tutti accomuneati oltre che dalla stessa strada dallo stesso problema cosa si verifica qui da un po' di tempo a questa parte? da un po' di tempo a questa parte abbiamo continuamente problemi nel lavarci la mattina presto perché dalle 6 della mattina spesso e volentieri non c'è più l'acqua si rompe la conduttura e noi ci ritroviamo con dei camion enormi davanti a casa che con una ruspa vengono a romperci il marciapiede e l'acqua non arriva per 3-4 ore non c'è e quello che ci disturba è che la rottura è troppo frequente 15 volte nell'arco di un anno e mezzo consideriamo una volta al mese noi abbiamo questo problema cioè la caldaia è già la terza volta che cambia in 3 anni lo scambiatore e quel tecnico della Tecnogas mi ha detto non è possibile che lei ha detto non è colpa nostra adesso verificheremo ha detto però lo scambiatore ha detto deve essere un problema di acqua e infatti ogni volta che si apre l'acqua viene giù praticamente indecente proprio non è possibile vedere una cosa del genere ma sono anni che noi siamo soggetti a questi problemi il mattino dobbiamo andare a lavorare dobbiamo andare a scuola e quindi non è possibile che ci ritroviamo ogni 15 giorni perché ultimamente è ogni 15 giorni con queste rotture questa mattina dalle 8 e mezza l'acqua è tornata alle 12 e mezzo dove l'acqua del rubinetto era marrone nonostante il tecnico dell'ASE le abbia assolutamente detto che non era possibile che l'acqua scorresse dal rubinetto sporca invece è sporca perché è marrone ma è il problema della conduttura dell'acqua quindi vorreste che insomma la cosa fosse messa a posto una volta per tutti esatto sì esatto che si prendessero dei provvedimenti seri non tampone ogni 15 giorni ci ritroviamo anche con i garage allagati perché qui si sono sono stati si sono allagati anche tutti i garage un giro di 50 metri 50 metri se lei guarda ci sono gli interventi ogni 15-20 giorni cioè è assurdo è successo ripetutamente reiteramente anche nello stesso posto nello stesso posto cioè se si guarda l'asfalto si vede che è stato fatto il lavoro non si pensi che sia un unico intervento è 3-4 volte che arrivano sempre nello stesso posto nello stesso giunto nuovo rimesso che riparte l'acqua riesce da fuori che sgrotta sotto non si spiega in via della paleotta sempre a Fano un capriolo è stato investito da un'auto un'auto che ha subito dei danni il capriolo l'animale purtroppo è stato abbattuto le immagini per quanto le abbiamo oscurate in alcune parti sono un po' forti un esemplare giovane adulto di capriolo maschio di circa 35-40 chili è stato investito oggi pomeriggio poco dopo le 16 in via della paleotta ad investirlo è stata una renoclio condotta da una giovane donna che sembrerebbe si è trovata improvvisamente l'animale parato davanti al muso della macchina dopo essere sbucato fuori dai cespugli al lato della strada l'urto violentissimo è stato inevitabile l'animale sbalzato in aria nella ricaduta ha rotto anche il parabrezza dell'auto dopo i primi soccorsi all'animale ferito da parte dei presenti sul posto sono arrivate una volante della polizia del commissariato di Fano ed una pattuglia dei vigili urbani oltre ai sanitari del vicino ospedale veterinario avvisati però dai privati che una volta giunti sul posto hanno visitato l'esemplare ferito e poi deciso di portarlo nella loro struttura dove però i medici veterinari a causa delle gravi lesioni riportate nell'ulto hanno deciso di sopprimere l'esemplare e una cucciolata una cucciolata di gatti che stava per fare una brutta bruttissima fine è stata salvata adesso si trova in un gattile e attende di essere adottata melanzana cipolla patata e ravanello sono i simpatici nomi dati dalle ragazze del gattile melampo di Fano ad una cucciolata che ha rischiato il peggio dalle prime ore di vita lunedì scorso quando una segnalazione di uno scatolone abbandonato vicino al mercato ortofrutticolo di Rosciano ha permesso il recupero di due mice correlativi gattini e di quelli di una terza gatta che spaventata però è scappata facendo perdere le proprie tracce il nostro appello se possibile è quello di guardare il muso di queste mice che è estremamente riconoscibile per segnalarci se qualcuno dovesse riconoscerle da dove provengono in modo da poter individuare anche il responsabile di quello che ha tutti gli effetti un reato perché comunque un reato l'abbandono di animali si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati una media di 90.000 gatti che rischiano di morire in incidenti distenti o a causa di maltrattamenti con punte massime di abbandoni nel periodo estivo con la partenza per le vacanze è un reato punito dall'articolo 727 del codice penale oltre al reato di abbandono in questo caso si può configurare anche quello di maltrattamento di animale anche in vista di quelle che sono le sofferenze che sta rapatendo la terza mamma laddove non si voglia avere cucciolate esiste la sterilizzazione che ha un costo che per quanto può essere importante parliamo di un centinaio di euro pensiamo che sia comunque un costo assolutamente da sostenere invece di macchiarsi di un reato che è comunque ignobile oltre ad essere un reato quindi l'abbandono porta ad un dispendio di denaro pubblico che ricade sull'intera collettività dato che nei canili e nei gattili italiani ci sono circa 300.000 cucciolotti a quattro zampe pronti a dare un affetto incondizionato in cambio di attenzioni e soprattutto di tante tante coccole ovviamente loro adesso sono piccolissimi le tre cucciolate variano dai 2 ai 14 giorni di età e quindi ancora è troppo presto per parlare di adozione abbiamo la nostra pagina facebook Gattile Melampo Fano in cui siamo sempre più o meno raggiungibili rispondiamo ai messaggi privati che possono arrivare oppure due numeri di telefono 346 0106 264 oppure 339 49 09 176 E' stato rintracciato nella notte il 17enne di Acqualagna che si era allontanato da casa da un paio di giorni e di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa il ragazzo stava vagando nella prima periferia di Urbino in località Piantata la famiglia è stata avvisata dagli agenti del commissariato di Urbino il padre è andato a prenderlo e lo ha riportato a casa stando a quanto si è preso il minore sarebbe stato ospitato da alcuni conoscenti e all'origine della fuga ci sarebbero alcuni dissidi di non grave entità in famiglia e domani riapre a Fano la pinacoteca del palazzo malatestiano sabato 20 maggio torna nei principali musei e luoghi della cultura d'italia la tredicesima edizione della notte europea dei musei con tre ore di apertura serale straordinaria al costo simbolico di un euro un'occasione da non perdere per cittadini e turisti per visitare e vivere il nostro patrimonio culturale grazie anche a percorsi illuminati visite guidate laboratori per famiglie e bambini concerti e spettacoli che accompagneranno i visitatori in questa scoperta per l'occasione Fano si prepara alla riapertura al pubblico della pinacoteca del palazzo malatestiano dopo circa sette mesi di chiusura per lavori di straordinaria manutenzione sono stati fatti importanti lavori di restauro ricordo che il museo mai era stato impermeabilizzato nelle coperture adesso lo è importanti lavori di umidificazione delle pareti tinteggiatura complessiva che ha dato un po' di freschezza a una sala che è molto frequentata e piaciuta e poi seguirà tra qualche giorno l'impianto di illuminazione nuova non siamo riusciti per questa data ma insomma ci saranno faretti led direzionati meglio sulle opere e ci sono anche in corso i lavori di restauro dell'annunciazione di Guidoreni grazie all'intervento del Lions Club di Fano un restauro che potrà essere partecipato in alcune su fasi operative dai visitatori che vedranno i restauratori all'opera perché nella sala del farsetto del caminetto c'è allestito il laboratorio di restauro quindi anche un'operazione interessante perché non ha mai visto all'opera i restauratori per l'occasione le sale espositive del Palazzo Malatestiano ospiteranno anche la mostra dal titolo Rinascimento Segreto curata da Vittorio Sgarbi il tutto con il sottofondo musicale dell'associazione Fano Jazz che sarà la colonna sonora di questa serata aprirà al pubblico anche il Teatro della Fortuna con il bellissimo sipario storico mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per ammirare i restauri del reparto archeologico del Palazzo Malatestiano ancora in fase di allestimento per quanto riguarda l'archeologico noi abbiamo la consegna delle nuove teche che ricordo sono completamente nuove entro i mesi di maggio per quella data tutti i lavori diciamo di infrastrutture quindi videocamere di sorveglianza nuovo impianto elettrico tinteggiatura saranno stati eseguiti e quindi poi si tratta di ricollocare le opere che sono nel cavo nelle loro posizioni e anche quelli piccoli pezzi che catturativamente sono stati riconsegnati ad Ancona torneranno quindi nel mese di giugno sicuramente sarà aperto anche l'archeologico la chiamano la santa degli impossibili a lei si ricorre per chiedere aiuto al cielo nei casi per i casi più disperati stiamo parlando di Santa Rita da Cascia che la chiesa cattolica celebrerà tra qualche giorno lunedì prossimo la chiesa festeggia Santa Rita da Cascia la santa della pace familiare e della misericordia una ricorrenza sentita ancora di più quest'anno dopo il sisma in Umbria che ha purtroppo reso inagibili i luoghi della devozione ma scanditi i lavori per la ricostruzione sono ufficialmente entrati nel vivo i preparativi per la festa della santa abbiamo seguito gli eventi sismici e anche molto pesanti per la situazione di Cascia la basilica è stata riaperta proprio un paio di settimane fa e il monastero invece ha bisogno di grossi lavori e purtroppo i pellegrini non potranno visitare i luoghi dove Santa Rita è vissuta come monaca agostiniana perché sono inagibili e anche noi pensavamo che in fondo con quelle offerte che entrano dai devoti il giorno della festa di Santa Rita di dare una mano alle monache perché sulla loro spalle la ricostruzione di tante parti del monastero di Cascia nata a Roccaporena nelle montagne vicino Cascia Rita si sposa con un ufficiale militare e dopo un matrimonio burrascoso e la morte del marito e dei due figli per una malattia Rita prende i voti ed entra nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena secondo la tradizione un venerdì santo mentre era in preghiera riceve come stigmata una spina della corona di Cristo in fronte immagine con la quale viene rappresentata ancora dopo una lunga malattia si spegne la notte del 22 maggio del 1447 data che per questo la festeggia e anche nella chiesa degli Agostiniani di San Giuseppe al porto di Fano domenica verrà celebrato il transito di Santa Rita con la benedizione delle rose il fiore simbolo legato alla sua vita Rita è una donna forte in fondo la tradizione ce l'ha tramandata proprio come una donna capace di affrontare ogni problema della vita e risolverlo col metodo di Gesù Cristo cioè risolvere i problemi con il Vangelo in mano non seguendo quelle che sono le usanze della gente della società o quello che la società ci obbliga a fare Rita si richiama continuamente a Gesù Cristo crocefisso tanto è vero che ce l'ha anche in mano e con Gesù Cristo cerca di risolvere i problemi della sua vita familiare della sua vita umana e anche della sua vita da monaca agostiniana su al monastero di Cascia oltre alle messe del mattino lunedì alle ore 15 e 30 saranno benedetti i neonati e i bambini perché la prima esperienza di Santa Rita fu quella della famiglia e sul piazzale antistante la chiesa del porto saranno benedetti gli automezzi mentre ognuno potrà ricevere una rosa benedetta in onore di Santa Rita e un dipinto olio su tela di Antonio Bonaventura trafugata dal Duomo di Urbino 35 anni fa è stata ritrovata in una casa d'aste di Genova alla quale era stato consegnato in seguito al fallimento di una società lombarda la segnalazione di un antiquario pesarese storico d'arte ha permesso ai carabinieri della tutela di patrimonio culturale di individuare l'opera che è stata quindi messa a disposizione della procura della Repubblica di Genova che è titolare delle indagini e adesso speriamo che possa tornare presto a casa cioè a Urbino è in programma per il 21 maggio il ciclo di concerti ed esibizioni musicali alla chiesa di San Domenico organizzato dalla Fondazione Carifano ad esibirsi questa domenica il corpo bandistico di Cartoceto che si esibirà con brani famosi colonne sonore di film e altri generi il concerto inizierà alle ore 17 e 30 la statua della Madonna di Loreto sarà a Fano il 27 e 28 maggio prossimi entrambe le date fanno parte di un pellegrinaggio nella diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola organizzato dai volontari dell'Unitalsi che inizierà il 21 maggio ad Apecchio e che porterà la statua della Madonna Nera in abitazioni istituti e ricoveri il programma completo è consultabile sul sito internet di Occhio e la Notizia punto it 12 vaccini obbligatori per iscriversi a scuola da 0 a 6 anni il governo vara il decreto oltre quelli già previsti cioè l'antipolio antidisterite antiepatite B e antipertosse sono introdotti i vaccini anti rosolia anti meningococco B e C antimorbillo antiparotite antivaricella e quello emofilus influenzale ma sono previste anche sanzioni da 50 a 7500 euro per i genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso alla scuola dai 6 ai 16 anni il Tribunale dei minorenni potrà inoltre sospendere la patria potestà cioè la potestà genitoriale e l'attuazione del decreto sarà graduale a partire da settembre un nostro telespettatore poco fa ci ha mandato in redazione questa fotografia si tratta di un nuovo sciame d'api in giro per la città di Fano qui siamo in via Montevecchio angolo piazza degli avveduti anche in questo caso sono stati chiamati vigili urbani e si attende un apicoltore per recuperare l'ape regina innanzitutto e poi il resto delle api prosegue invece il venerdì del buon umore dopo il grande successo di venerdì scorso con gli sbancati questa sera Fano TV sul canale 17 vi propone tra poco una commedia una commedia in dialetto fanese ad opera del guitto il titolo è a un tiro di schioppo il telegiornale finisce qui grazie per la vostra attenzione l'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali arrivederci a